Lasciano allibiti le immagini di questi pestaggi in un paese U e la Bulgaria, membro del Consiglio d'Europa. Diverse persone sono state picchiate dalla polizia fuori dal quartier generale del governo bulgaro, mentre partecipavano a una protesta il 10 luglio 2020. Secondo le riprese delle telecamere recentemente mostrate in Parlamento, alcuni sono stati trascinati dietro una grande colonna da quattro agenti di polizia, presi a pugni e calci e poi ammanettati mentre giacevano a pancia in giù, mentre altri giovani storditi venivano gettati sulla schiena. Le proteste contro la corruzione hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Boik Barisov per tutta l'estate del 2020. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS